Ciao a tutti ragazzi Questo è un altro nuovo video Non Toy Story con Naccio Ma di Toy Story L'alieno Che mi è stato regalato per Pasqua Dunque Questa è la sala Qua il 3 e Toy Story è tridimensionale Qua la foto dell'alienetto E qua l'alienetto Basley me lo comprerò Se qualcuno l'abbia visto sempre a Roma Qua Alieno Se ne vizza il Toy Story Sono dato E ora faccio la giocattola Questa è la base Qui è dove chi è l'alieno L'antenna si muove Fai le braccia Mobili E pure questi un po' mobili Però con questa base Sono un pochino deluso Le loro basi Qua c'è scritto Prince Non so se esatto Ma è Prince Alieno È tutto identico Solo che è un po' più piccolino Da quello del film Non sono tre Purtroppo non è soltanto uno Qua c'è scritto il codice Ti metto un attimo lo zoom Ecco qui Aspetta Prendo un attimo Ecco qui Eccolo qua Molto bello Io ne sto cercando tre Di alieni Ecco qua Tre perché Per la mia collezione Perché Nel film Sono tre Con il lato Sua collezione E non è girato Vedete L'alieno Non è fisso Perché Se lo prendi Me lo tiene proprio Al proprio posto Adesso vi salutarmi Ciao e grazie Per la visione E indovinate Chi sarà nel prossimo video Ciao